Barletta-Taranto 3-1, segna subito Beccalossi al quinto nelle Verdi pugliese. Ecco l'azione con il sinistro di Beccalossi. Raddoppio al trentaseiesimo dopo un'avemente azione di attacco del Barletta, che è in maglia rossa, il gol è di Soncin. Passiamo nella ripresa, al decimo, l'arbitro a Stafoggia assegna un rigore al Taranto per il fallo del portiere Coccia. Trasforma Lerda e porta il punteggio sul 2-1. Ma al quarantunesimo c'è un elegantissimo contropiede con doppio scambio Fioretti-Vincenzi e poi il bel gol finale di Vincenzi, che fisso il punteggio sul 3-1 per il Barletta. Padova-Cadanzaro 1-0, il gol partito...